Mio nonno era un uomo alto, distinto, con radi capelli bianchi, un cappello e un paio di occhiali. E' andato via sicuramente in un posto migliore. Avevo all'incirca dici anni. Di lui ricordo che non fosse un uomo molto propenso al contatto fisico, infatti credo che non abbia mai abbracciato neanche i suoi stessi figli, figuriamoci nipoti. Però nonostante tutto ho sempre avuto la sensazione di volergli molto bene, infatti lo sogno spesso. Ho un buon ricordo di lui, anche se i momenti sono stati così dati, talvolta anche sfumati. E' stato l'unico nonno che ho avuto, cioè l'unico che ho conosciuto, perché gli altri purtroppo sono andati via quando io non ero ancora venuta al mondo. E che dire? Mio nonno aveva un cappello e un paio di occhiali.